Maria leggeva un libro Io andavo al cinema Loro dormivano male Noi finivamo la visita Lui parlava di ecologia Cosa faceva Maria? Dove andavi? Dove andavate? Finivate il lavoro per oggi Io camminavo Noi pensavamo Io mettevo Loro finivano Voi credevate Marco abitava a Napoli Tu non parlavi con Luca Tu avevi un'auto blu Come dormivano? Quando finivamo? Di cosa parlava? Tu mettevi via i soldi Dove sono le mie chiavi? Cosa facciamo questo sabato? Quante camicie hai comprato? Con chi sei stato in vacanza? Qual è il tuo indirizzo di casa? Mi dici che cosa è successo ieri? Cosa avete visto al museo? Quando andiamo al cinema? Come si chiama tuo cugino? Quanta pasta hai mangiato? Di chi sono queste matite? Perché sei andato via così? Perché non andiamo al mare? Cosa ti ha detto il dottore? Chi è l'uomo che ti saluta? A che ora devi andare via? Quanto tempo stai in città? Quando tornate dalla Spagna? Chi è il tuo migliore amico? Dove siete stati questa estate? Di che colore è la tua auto? Io ho avuto Io avevo Tu hai avuto Tu avevi Lui lei ha avuto Lui lei aveva Noi abbiamo avuto Noi avevamo Voi avete avuto Voi avete avuto Voi avevate Loro hanno avuto Loro avevano Mentre aspettavo il bus ho visto un mio amico Non ti ho scritto perché non ho il tuo indirizzo Mentre salivano le scale hanno visto il professore Ho chiamato il dottore perché non mi sentivo bene Ha chiuso la finestra perché aveva freddo Ha chiuso la finestra perché aveva freddo In vacanza Luca ha visitato posti molto belli Da bambina ogni anno andava a Napoli La settimana scorsa sono andato a Napoli Mentre studiavo ha suonato il telefono Quando andavo a scuola mi vestivo bene Vai a casa Diamo il cibo al cane Abbi più pazienza Fate quest'esercizio Bevi un po' d'acqua Dite cosa c'è da fare Partite subito Entrate e state lì Uscite dalla porta Vieni con noi oggi Fai un po' silenzio Diciamo tutto a lei Bevete il succo Esci con noi dopo Le ciglia Le ciglia La fronte La fronte L'occhio 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 Il naso Il naso La bocca La bocca Le labbra Le labbra Le labbra Il collo Il collo La lingua La lingua Il mento Il mento Il mento La guancia La guancia L'orecchio L'orecchio I capelli I capelli I capelli La narice La narice La gola La gola La gola Marina Marina sta cercando le chiavi Noi stiamo parlando con i nostri amici Io sto portando mia sorella a scuola Tu stai ascoltando la radio Gianni sta cantando nel bagno Voi state guardando i miei occhiali Tu stai partendo per Napoli? Loro stanno scrivendo alle sue amiche Lui sta finendo di lavorare Io sto avendo delle difficoltà Tu stai dicendo quello che pensi Voi state bevendo dell'acqua Noi stiamo amando questo viaggio Loro stanno cadendo dalla bici Dove pranzate domani? Dove pranzerete domani? Da chi si fermano a dormire? Da chi si fermeranno a dormire? Con chi esce Maria stasera? Con chi uscirà Maria stasera? Quando inizia il tuo lavoro? Quando inizierà il tuo lavoro? Quando finiscono le lezioni? Quando finiranno le lezioni? Dove vai questa sera? Dove andrai questa sera? Quando venite a trovarmi? Quando verrete a trovarmi? Quante ore studiate? Quante ore studiate? Quante ore studierete? Domani iniziamo un'ora prima è ora di andare a mangiare Ho lavorato in città fino ad ora Per ora non posso uscire con te D'ora in poi ci alzeremo presto Hai ricevuto il libro un'ora fa Era ora che finisse di piovere Siamo arrivati da un'ora circa Non vedo l'ora di andare in ferie Finora ho viaggiato spesso Se piove allora non usciamo Stasera mangio un'ora dopo Hanno pulito solo in un'ora D'ora in poi tutto cambierà Se sei stanco vai a letto Se nevica non vado a passeggiare Se non si sbriga perde l'autobus Se bevi così tanti caffè Ti innervosisci troppo Se vieni a trovarmi ti dico le ultime novità Se partiamo subito non troviamo sicuramente traffico Se vai in città dimmelo che vengo con te Se tornate in tempo mangiamo insieme Se questo libro ti piace Te lo regalo Se ha la febbre Deve rimanere a letto Se studierai di più Riuscirai a preparare più esami Se a Natale avremo un po' di ferie Andremo a sciare Se mi promette che guiderà piano Andrò in macchina con lui Se la prossima settimana sarò ancora malata Andrò dal dottore Se saranno buoni Li porterà al parco Se avesse più tempo Rimarrebbe qualche giorno in più a Roma Se Pino ascoltasse i suoi consigli Si troverebbe meglio Se non prendesse l'ombrello Si bagnerebbe completamente Se gli esercizi non fossero così difficili Finirebbe prima i compiti Se non avesse un altro impegno Ti chiamerebbe volentieri Ieri Vittorio È andato dal medico Francesco È nato a Roma I ragazzi Sono rimasti in città Lucia È uscita di casa alle sette Barbara e Irene Sono venute in Italia Matteo È uscito con gli amici Ieri Marco Ha guardato un film Quando Sei tornato dalle vacanze Gli studenti Hanno fatto una gita Le ragazze Hanno parlato della scuola Grazie a tutti 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 Grazie a tutti